Partiamo dal lato umano, lasciare Arezzo che cosa significa? Beh, è un grande dispiacere, lo dico proprio senza filtri, in maniera molto diretta, è stato un onore immenso essere il prefetto di questa provincia e quindi la lascio con dispiacere, con commozione, però con una consapevolezza di aver creato tantissimi legami a cominciare dalla collettività, tante situazioni che mi resteranno nel cuore, la città di Arezzo sarà per sempre un po' mia e quindi ho conosciuto fin dall'inizio tante persone disponibili che mi hanno accolto benissimo, adesso lascio tanti amici, quindi questo sentimento chiaramente si accompagna sicuramente alla considerazione e al piacere per la considerazione che ha avuto il Ministro nei miei confronti nel affidarmi questo nuovo incarico che è sicuramente molto prestigioso, molto delicato, però i due sentimenti chiaramente sono in contrasto perché da un lato c'è appunto la gioia di iniziare un nuovo percorso, dall'altro però c'è il dispiacere sincero di lasciare Arezzo. Un videocontrollo però più incisivo lo si deve alla sua... Beh, in termini molto concreti, da quando sono arrivata siamo passati veramente da zero a cento perché c'era un sistema di videosorveglianza sicuramente superato, sicuramente non funzionale e adesso invece c'è il massimo che si possa esprimere in questo settore, quindi c'è una realtà completamente videosorvegliata con tecnologia di ultimissima generazione, lettura targhe, individuazione appunto con dei sistemi di alert di eventuali targhe sospette, per cui c'è una grande copertura del territorio. Un piccolo rammarico non aver firmato quell'atto che riguarda la giostra del Saracino, insomma e delle misure di sicurezza che la rendano più manifestazione e meno, insomma, appunto quello che abbiamo visto. Beh, sicuramente sarà compito del mio successore affrontare questo argomento più a ridosso della manifestazione e anche da questo punto di vista, insomma, ritengo di aver creato un clima di grandissima collaborazione. Spiace per gli episodi che ci sono stati nell'ultima competizione che nulla hanno a che fare però col mondo della giostra e quindi auspico che possano non ripetersi più ma che possano essere messe in campo delle misure sicuramente incisive per evitare che si verifichino questi episodi. Grazie. 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 Grazie.